2.690.799 euro, a tanto equivale la monetizzazione dell'energia gratuita per l'anno 2020 relativa alle grandi derivazioni d'acqua finalizzate all'idroelettrico nel territorio della provincia di Sondrio. Ecco i primi effetti della disciplina regionale in materia di grandi derivazioni, scrive l'assessore regionale a enti locali montagna, piccoli comuni e risorse energetiche Massimo Sertori nel dare notizia stamane del gettito che interessa la nostra provincia. Per quanto attiene al 2020, continua Sertori, l'indirizzo generale era stato quello di dare priorità alle RSA, le residenze sanitarie assistenziali che tanto avevano sofferto a causa della pandemia. Si tratta di un primo trasferimento di risorse da parte di Regione Lombardia destinate a quei territori in cui sono presenti grandi impianti di derivazione idroelettrica, un parziale dovuto a contenziosi ancora in atto con operatori che non hanno adempiuto alle disposizioni previste dalla legge nazionale e regionale. Una normativa che prevede che la Regione trasferisca una parte non inferiore al 50% dell'energia gratuita a determinate categorie di utenti situati nei territori provinciali interessati dalla presenza delle grandi derivazioni idroelettriche. Categorie individuate con la deliberazione regionale 3347 del 2020, la stessa che ha inoltre disposto per l'anno 2020 di trasferire ai territori provinciali interessati il 70% dell'energia gratuita da acquisire, ovvero del suo controvalore economico o monetizzazione. Monetizzazione che la provincia di Sondrio, in quanto interamente montana, provvederà in autonomia a distribuire tra le categorie previste dalla delibera del 2020, residenze sanitarie, assistenziali pubblico-private accreditate, impianti ed edifici scolastici, impianti sportivi, servizi sanitari e di carattere ambientale. Il presidente della provincia, Elio Moretti, commenta così la notizia giunta stamane da Palazzo Lombardia. Il riconoscimento più importante consiste nell'autonomia lasciata all'ente di poter liberamente decidere, entro un quadro definito da regione, i soggetti destinatari delle somme. Una straordinaria opportunità per far fronte alle tante difficoltà di questo particolare momento.